Ieri, in ufficio, mentre stavo stampando dei documenti per la prossima riunione marketing, la multifunzione ha avuto problemi di stampa. Era tardi e il centro di assistenza tecnica ormai era chiuso. Per fortuna che c'è Ricco Smart Service, l'innovativa app che consente di inviare una richiesta di assistenza direttamente dal dispositivo multifunzione attraverso lo Smart Operation Panel. Semplice, intuitiva e veloce. Ho inserito i dati richiesti e inviato subito una richiesta d'assistenza senza telefonare o utilizzare il computer. Ed ecco fatto, la mia richiesta è stata ricevuta dall'assistenza e oggi il tecnico ha già risolto il problema. Con quest'app è anche possibile inviare manualmente i contatori per la fatturazione delle pagine o richiedere l'invio dei toner. Con Ricco i problemi si trasformano in soluzioni. Grazie.